Sei pronto? Per le ultime novità dal mondo del gossip, scopriamo insieme i retroscena più scottanti delle celebrità più famose. Oggi ti sveleremo i dettagli, di una presunta rottura, tra due volti noti dello spettacolo, mentre una misteriosa figura, entra in scena. Mettiti comodo, e preparati a conoscere i segreti più giuisi dei protagonisti di questa storia. L'atmosfera, si surriscalda nel mondo delle celebrità, con la presunta rottura, tra la bellissima Belen Rodriguez, e il suo ex marito, Stefano De Martino, al centro di tutte le chiacchiere. Dopo aver riacceso i riflettori, sulla loro relazione ormai da diverse settimane, sembra che le cose, si stiano davvero complicando per la coppia, a poco più di un anno, dal loro rinnovato amore. Le voci sulla rottura, hanno raggiunto il culmine durante il compleanno di Ignazio Moser, in cui Stefano De Martino, era misteriosamente assente. L'evento, celebrato in compagnia di amici e parenti, ha scatenato ancora di più i sospetti, sulla tenuta della relazione tra Belen e Stefano. Mentre Belen, ha partecipato all'importante festa, insieme a Cecilia, Gustavo e la sua fidanzata, Deborah Togni, la mancanza di De Martino, ha sollevato domande sulla sua assenza. Cosa avrebbe potuto essere così urgente, da tenerlo lontano, da una festa così speciale? Ma ecco, arrivare il colpo di scena più clamoroso. Un video sospetto, è immerso dalle ombre, mostrando la showgirl argentina, in atteggiamenti affettuosi, con un misterioso uomo. Questo filmato ha gettato ulteriori dubbi sulla solidità della loro relazione. Gli occhi più attenti non hanno potuto fare a meno di notare, come Belen stringeva la mano di quest'uomo, chiaramente diverso da Stefano. Secondo alcune segnalazioni che sono arrivate a Dejanira Marzano attraverso i social, l'uomo misterioso, potrebbe essere un imprenditore bergamasco di nome Elio. Pare che Belen abbia trascorso delle romantiche notti con lui in un lussuoso resort a Merano chiamato San Luis. Queste voci, tuttavia, sono ancora da confermare e il gossip rimane pieno di incertezze. Ma è difficile ignorare alcuni dettagli che, sin dall'inizio dell'estate, hanno messo in discussione il legame, tra la showgirl argentina e il conduttore di Rai 1, nonostante fossero tornati a essere una famiglia unita. Uno di questi dettagli è la sparizione dell'anello nuziale dal dito di De Martino, che lui aveva riindossato l'anno scorso, lasciando molti a chiedersi se questo, sia un segno di una rottura imminente. E così, le voci sulle turbulenze amorose, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, continuano a tenere banco. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire se questo sarà solo un altro capitolo, nella loro travagliata storia d'amore, o se i due decideranno di seguire strade separate. Resta con noi per non perdere neanche un singolo dettaglio, del mondo glamour e delle sue storie più intriganti.